Potrebbe essere un bello slogan di una vita intera. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quanti doni che abbiamo ricevuto gratuitamente. La vita. Non abbiamo mica pagato per avere la vita. Allora doniamo la vita per gli altri. Abbiamo ricevuto gratuitamente tutto il nostro corpo, le persone che ci amano, la nostra famiglia. Potreste fare un erenco delle tutte le cose che abbiamo ricevuto gratuitamente. E gratuitamente dobbiamo donare amicizia agli altri, vicinanza. E questo è il senso della nostra vita. È tutto uno scambio di doni. Perché nella vita ciò che più conta non è quello che si compra o si vende, ma è ciò che si riceve gratis e si dona gratuitamente. E tra le cose da ricevere, che abbiamo ricevuto gratuitamente, c'è la nostra fede. Non avevamo nessun merito per venire a sapere di Gesù, per conoscere la sua storia, per sapere il suo messaggio. Non eravamo migliori di tante altre persone. Eppure abbiamo ricevuto questo dono meraviglioso. E allora, visto che l'abbiamo ricevuto, vogliamo donarlo agli altri, vogliamo trasmetterlo, perché diciamo che il più grande dono della nostra vita non possiamo tenercelo per noi.